buongiorno ragazze oggi un pancake super light perché poi il 31 invece ci aspetta il pandoro quindi manteniamoci light comunque buono ho fatto una nuova ricetta di pancake guardate c'è anche la cioccolata è buonissimo vi giuro ed è light appena riprendo in mano il mio secondo canale vi farò la ricetta se la volete di questi nuovi pancake vi giuro sono buonissimi e poi mi sono fatta il mio cappuccino di avena e buongiorno buongiorno inizio questo vlogmas con un trattamento di bellezza questa maschera viso di apiarium che io adoro ovviamente trovate su caritas shop perché sul mio shop online fate tutte le cose che io prodotto io amo questa l'ho adorata dal primo momento è una novità uscita da quest'anno e io l'ho provata in anteprima veramente top è una maschera viso che ragazzi è illuminante io la faccio anche sulle mani perché è perfetta un esempio con questo inverno toglie la pelle secca il grigiore ad esempio avete presente quando avete le pellicine la pelle secca il grigio opaca e ci vuole no un trattamento di bellezza questa è proprio illuminante anti age faccio questo trattamento per mantenere il disonutrito luminoso prevenendo i segni dell'età quindi combatte sia le rughette sia le pulita morbida liscia e molto luminosa anche sul contorno occhi sulle labbra sulle mani perché sulle mani secche spesso molte di voi mi dite che avete le mani secche per il freddo comunque l'uso di detersivi fate anche la ma questa maschera che comunque un utente illuminante anche sulle mani e adesso lascio in posa 10 minuti e poi mi sciacquo e la faccio due volte a settimana infatti c'è scritto ideale anche per ripulire le epidemie dalle tossine e le cellule morte che depositandosi sulla pelle o sui sconipori quindi alla fine la pulisce anche e questa è la maschera ed è stupenda poi vi dura per un sacco è tipo un burro sofficioso bellissimo veramente fantastica ricca di burri estratti vegetali nutrienti e purificanti velastra consiglio non consiglio di più ragazzi veramente ottima e poi c'è anche di un altro tipo sul mio shop online ci sono due tipi questa è nutriente illuminante anti age e poi c'è l'altra che invece è purificante all'argilla anche ottima sono veramente entrambe faulose io le alterno faccio una volta due volte a settimana una volta questa una volta quella più comunque la pelle mista invece magari a volte le applico anche tutte e due a zone alte ad esempio sul naso fronte mento che ho la pelle grassa impura metto quella purificante questa la metto su collo guance contorno occhi anche così potete fare e sono veramente fenomenali poi vi durano per un sacco sono veramente bellissime ragazzi per se la consiglio comunque andate a vedere su caritashop.com perché troverete queste maschere e tanti altri prodotti di bellezza bellissimi che vi renderanno bellissime comunque dopo vi faccio vedere il risultato la pelle come morbida liscia luminosa l'ho detto anche sulle labbra perché è naturale biologica quindi la potete mettere ovunque ipoteticamente anche se avete tipo i piedi secchi i gomiti secchi dappertutto 10 minuti in posa e poi si sciacqua estate belle idratate pulite e luminose sciacqua e massaggio oh mio dio spettacolo nei video dei regali guardate qui dove si mette cioè non so pure i vostri cani c'è una cosa tremenda l'essa sempre di frutta alla stufa ma amore ma sei più fedelosa di mamma c'è una cosa tremenda se sta là immobile manco se stai facendo una lampada davanti alla stufa così e sta là lei non ce la faccio comunque la casa tutta bella pulita posso inquadrarvi proprio nel dettaglio la casa perché ci sono i miei regali di natale quindi ve li svelerei ma non voglio rovinarvi la sorpresa del video regali che adesso sto registrando e caricherò fra due tre giorni online e quindi mi sono fatta quella maschera ragazzi mi ha lasciato una pelle liscia come il culetto di un bambino liscia morbida e luminosa la adoro veramente le amo comunque su carità shop c'è una sezione sul sito chiamata proprio maschere e scrub bella trovate tutte le mie maschere preferite ve le straconsiglio tra l'altro abbiamo il sito che veramente ci avete fatto esplodere perché soprattutto con le collanine sono andate veramente a ruba stanno andando a ruba e alcuni modelli già non sono di nuovo cioè già sono di nuovo non disponibili nel senso che sono già esaurite di nuovo non lo so veramente siete mitiche ragazze noi vi ringraziamo tanto perché veramente emozionante vedere che vi piacciono così tanto adesso io ho messo la stella choker e il cuoricino le adoro quelle sono belle proprio da metterle assieme due o tre assieme sono troppo belle queste due le amo e dovrebbero ancora essere disponibili ma affrettatevi perché mentre sto parlando voi comprate quindi può darsi che siano già finite comunque sono bellissime oh mio dio questa stellina è stupenda e anche questo cuoricino sono troppo belle comunque ragazzi sono tanto tanto felice very 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 happy adesso registro video dei regali e poi vi devo dire che noi praticamente stiamo per partire voi non lo sapete voi ci vedete qua ma noi siamo già in partenza a sulle labbra c'ho il rossetto rouge mon amour che come sapete il mio rosso preferito e trovate anche questo su caritashop.com e noi stiamo per partire in pratica io sono troppo felice ragazze perché voi non sapete ma veramente noi ci siamo organizzati un viaggio io e Dario dopo tanto lavoro finalmente dopo aver passato la vigilia e il negozio dopo aver passato oh mio dio finalmente un po un bel viaggetto io e lui dopo tanto lavoro veramente ci voleva un po staccare e però voi non vi preoccupate perché comunque il sito sarà sempre attivo insomma c'è chi lavorerà per noi quindi i pacchi partiranno sempre ogni giorno quindi continuate a comprare tranquillamente noi però ci prendiamo giusto 4-5 giorni non di più perché poi dopo ci abbiamo da fare ci abbiamo da lavorare e dove andiamo non possiamo andare a nessuna parte quindi 4-5 giorni però ci vogliono per staccare un attimo e comunque io mi sto anticipando un paio di video per caricarli quindi non penso che lascerò il canale proprio una settimana senza video no uno o due video lo caricherò sicuramente quello dei regali vedrò di farne un altro così non vi lascio proprio all'oscuro e quindi partiamo che bello sono tanto felice ragazze non immaginate quanto e comunque vi piace il mio outfit tutto rosso bello natalizio vi faccio la maia questa è una maglioncione di quelli belli lunghi e comodi che avevo preso da H&M tipo un anno fa è super caldo un bel rosso ho un leggings di quelli di calzedonia che sono super stretti push up super belli io li adoro perché sono caldi e comodi insomma li adoro e poi la maglia vedete copre bene tutto il popò perché comunque sono ancora un po' appesantita dalle feste e non mi sento proprio informissima vale vi accenno questo qua che è uno dei regali che mi ha fatto Dario e poi il resto li vedete nel video dei regali di Natale vi giuro ragazzi non ho mai avuto regali così belli in vita mia cioè veramente Babbo Natale esiste ed è Dario comunque non perdete il video perché veramente sono regali bellissimi anche questo cappello è bellissimo se intanto mi chiedete come faccio ad avere una bella piega come faccio ad avere dei bei capelli io vi voglio fare il video della mia hair care routine comunque nel frattempo vi faccio vedere io sto usando con molta soddisfazione questi due shampoo e bassamo sono entrambi quelli là volumizzanti nuovi di maternatura che ho inserito anche sul mio shop online e vi dico che vi fanno venire dei capelli veramente belli che fanno swish perché questo fatto che sono volumizzanti le rendono voluminosi e lucide quindi piacciono tantissimo però comunque io ho provato diversi prodotti di tutta la linea maternatura che ho voluto sul mio shop online perché trovo veramente superiori quindi vi consiglio anche lo shampoo e bassamo per capelli fin e sfisbrati poi c'è quello anche per capelli tinti che ravvive il colore quindi ve lo consiglio spesso mi chiedete uno shampoo per capelli tinti questo qua di maternatura che se non mi sbaglio le scritte sono viola comunque lo trovate su caritashop.com ve lo straconsiglio e poi questi che sono i miei masterb assoluti il fluido lucidante anticrespo che c'è anche da termoprotettore lucida tantissimo i capelli chiude le squame dei capelli io lo adoro anticrespo lucidante protegge dal calore del phon veramente è un prodotto topo è liscia tantissimo i capelli questo invece è lo spray che io metto per profumare i capelli fissare la piega alla rosa lo adoro anche questo toglie il crespo ed è uno spray molto molto leggero che non sporca poi ragazzi questi qua sono una manna dal cielo l'impacco e la maschera velistra consiglio se avete capelli secchi sfibrati doppie punte opachi sono veramente buoni la maschera ma anche l'impacco veramente questo impacco è una manna dal cielo ragazze io lo uso una volta uso il balsamo e una volta uso l'impacco e mi trovo stra bene comunque anche se c'è scritto impacco questo qua si usa come una maschera cioè praticamente va messo dopo lo shampoo lasciato in posa un quarto d'ora e poi si sciacqua c'è scritto impacco perché è qualcosa di veramente molto nutriente però si usa come una maschera insomma dopo lo shampoo io vi straconsiglio comunque vi farò il video della mia haircare routine anzi fatemi sapere nei commenti se vi potrebbe piacere questo video sulla mia haircare routine così magari vi faccio vedere i propri prodotti all'opera e vi consiglio vari prodottini magici per capelli bellissimi lucidi e mola cosa è importante che siano lucidi e morbidi ma cosa vuoi tua mamma che mamma deve fare il video dei regali cosa centri tu? è al centro dell'attenzione è che si è messa nell'inquadratura mamma quando si bella sempre davanti alla stufa a farsi la lampada ecco amore si parte siamo andati a prendere i nostri biglietti all'agenzia di viaggi e non vediamo l'ora di partire la località è segreta non la diremo ancora per lasciarvi così la sorpresa del posto anzi vediamo se indovinate anche se poi fra un paio di due o tre giorni il tempo lo saprete seguitemi su instagram così sicuramente lo saprete in anteprima perché appena arrivo pubblico foto faccio le storie quindi sicuramente e fateci sapere nei commenti se pensate avete un'idea della località in cui andremo amore vogliamo dare un piccolo aiutino? è un posto bellissimo bellissimi ne vediamo l'ora di partire è segretissimo il posto chi siamo? James Bond sono qua in palestra perché io sono tornata attiva già dopo il 27 già mi sono tornata ad allenare e quindi sono qua pronta per allenarmi far crescere i miei muscoletti ho ancora le collanine perché queste non scuriscono queste sono rudiate e si possono anche mettere sotto l'acqua in tante melodite sono tranquillamente restano così si possono bagnare non c'è di nulla si vengono sempre chiare e luminose sono stupende Carlita Jewelry comunque ragazzi adesso me lo vado ad allenare ho tanta voglia sono super carica sono carichissima oggi parte alta questo è workout finito sto per andare a docciarmi con il mio mitico bagno schiuma sensual lo adoro una profumazione bellissima biologica e naturale lo trovate su Carlita Shop poi io uso sia il bagno doccia che la crema abbinata sensual e mi rimane un sacco la profumazione adoro sia sensual che ipnosi sono stupendi li amo anche Dario li ama le ristraconsiglio poi sono un bel bottiglione quindi mi durano il sacco me li porto sempre con me in palestra bagno doccia e crema sensual oppure ipnosi sto cucinando mentre il mio amore oh amore e così ti stai facendo un bel massaggio super rilassante anche riscaldamento e chi sta me chiedendo ti faccio essere come un re anche pure fatti un massaggio anche tu io sto cucinando vi faccio vedere praticamente ieri mi sono anticipata e mi sono preparata questo qua pieno di verdure io faccio così diciamo fra Natale e Capodanno perché abbiamo mangiato come i porci se avete visto i miei vlog precedenti sto facendo un po' di detox quindi prima cosa tante tante verdure e pochi carboidrati ovviamente e quindi ho fatto ieri ho fatto tutte queste verdure cioè praticamente ho buttato in pentola zucchine, sedano che è super detox poi ci ho messo peperoni tutto quello che avevo in frigo in questo caso avevo zucchine, sedano, peperoni ci ho messo anche un po' di olivenire e poi ci metto tante spezie e l'olio a crudo e comunque anche i finocchi le melanzane quello che avete insomma non è importante e poi qua ho fatto un po' di macinato magro di tacchino che vado ad unire per quota proteica e poi qua c'ho anche altre verdure che sono in questo caso verza insomma una scena molto triste era meglio il panino del vlog di ieri ragazzi che vi avete visto ieri vero quel panino era molto meglio però insomma ogni tanto bisogna anche detossificarci vero pupi pupi sempre davanti alla stufa perennemente ecco qua ragazzi spolveratina di parmigiano giusto per rendere il tutto un po' meno triste è buono voilà ragazzi il nostro piatto è un piattone perché in una maniera ci dobbiamo abbuffare carne e verdure carne magra e 8 kg di olive pieno di olive sono olive anche sotto io adoro le olive ma avranno qualche controindicazione ne mangio tantissime comunque ho messo anche un chilo di parmigiano e di peperoncino perché mi piace tanto il peperoncino a dare o no amore vieni vieni mi rubiamo le idee per cavolare mentre mangiamo guardiamo il video di Nancy seguite la mia sorellina voi che siete curiosi insomma Nancy Vlog si chiama il suo canale pure quello in Red guardiamo Nancy e David sempre facciamo una compartita tra i regali di David e i regali di Nancy e guardate la differenza allora noi faremo il video dopo Natale di i regali di Nancy versus regali di Nancy si aspettiamo devo sentire amore questa cosa è troppo divertente la buonanotte a mia mamma noi gli abbiamo mandato buonanotte buonanotte assaggi d'oro allora aspetta mia mamma ha voluto far dare la buonanotte da mio padre e poi dopo sogni e bronzo sogni e bronzo invece di sogni e dono non c'ha faccia è unico mio padre comunque questa cover è sempre più bella diventa sempre più bella giorno dopo giorno amore io non me la prendo no com'è amore? buono lo so che è il pandoro la pizza erano più buoni però dai che il 31 ti devi scofanare di nuovo il mondo ragazze è buono fidatevi di me se avesse una forchetta per mangiare amore sarebbe anche buono diciamo che che io mangio così direttamente dal piatto comunque un bel piattone sicuramente vi saziate e poi il 31 ci daremo alla pazza gioia e ci scofaneremo il mondo vero amore? sì ci vediamo nei prossimi video lasciate un like seguite i vlog per scoprire dove andremo in viaggio e ci vediamo tra uno o due giorni con i regali di Natale ciao ciao amore saluta ciao comunque è buono 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 buona notte ciao ciao questa cosa che vi faremo vedere non è detox ma noi dobbiamo sempre fare una porcellata alla fine vero amore? allora cosa si fa? si prende la buccia della parte dura e si pulisce un po' e poi si mette nel microonde vero amore? sì praticamente viene questa roba così super calorico questo è tutto olio il parmigiano si scioglie diventa bollente diventa una droga io ve lo dico io e Dario lo facciamo ogni sera buono? hai drogato lo amo troppo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.